Stagione turistica che si sta concludendo qui a Rosetogli Abruzzi, ovviamente è stata una stagione anomala anche un po' soprattutto per il tempo che non è stato clemente sin dall'inizio con i balneatori. Sì, diciamo che è stata una stagione con luce e ombra, diciamo che è partita un pochino in ritardo anche causa maltempo soprattutto tutto il mese di maggio, inizio i mesi giugno diciamo che l'abbiamo tra virgolette persi e quelli sono giorni importanti come ben sai i weekend soprattutto all'inizio dove la gente ha voglia di andare al mare e di cominciare a prendere il sole e farsi i primi bagni. Poi come ogni stagione diciamo che luglio-agosto ci siamo salvati anche perché il nostro turismo è fatto comunque di persone, una clientela abbastanza fidelizzata e storica che ogni anno torna e ci fa arrivare a fine agosto. È una stagione che definirei sulla falsa riga dell'ultima stagione, adesso non abbiamo ancora i dati definitivi, ho notato che in maggio lo avete visto tutti, il brutto tempo ha caratterizzato un po' tutto il mese e non ci ha permesso di fare turismo, un giugno secondo me non male, luglio l'ho visto molto in calo, luglio veramente è un luglio fiacco con poche presenze, agosto ci siamo ripresi bene, un buon agosto secondo me, questo ripeto è un mio punto di vista, specialmente nella seconda parte dopo il 15 che solitamente conosciamo una flessione, invece quest'anno forse il maggior numero di presenze lo abbiamo avuto proprio dopo il 15, fino quasi tutto il mese di agosto, adesso vediamo un po' che settembre aspettarci. Sì, sicuramente è una stagione soddisfacente, sì un aprile e maggio molto dell'utenni ma purtroppo il clima non si comanda per fortuna, grande recupero giugno, luglio, agosto è stato il massimo dell'esploit, speriamo in un settembre, adesso questo weekend sarà un po' brutto ma speriamo, fino alla fine ci dobbiamo essere, dobbiamo comunque dare questo tipo di servizio perché è utile ai turisti che ancora ci sono, perché non dare la possibilità di andare al mare fino alla fine di settembre.